Un vecchio detto che funziona sempre, perché sono circa due mesi che abbiamo battagliato per farli spostare. Chi la dura la vince. Mario Puppin, un signore tranquillo che somiglia un po' a Paolo Stoppa e abita in via Fonbruck, per parecchio tempo è stato alle costole dell'amministrazione comunale per far togliere il cassonetto per i rifiuti delle pescherie posizionato a poca distanza dallo spazio riservato ai camper. Qualche funzionario poco a conoscenza della situazione ambientale aveva fatto mettere qui delle cose indegne. Specialmente durante le giornate più calde, l'odore che promenava dai cassonetti, che in origine erano due, era davvero intenso. Se poi si tiene in considerazione quel tanticchio di vento, è facile immaginare come si saranno sentiti gli abitanti della zona, tenuto conto anche del fatto che a volte i rifiuti erano abbandonati fuori dai cassonetti. Il problema, va detto anche questo, non deve aver lasciato indifferente gli stessi camperisti. Pazienza uno solo. C'erano momenti tipo Ferragosto, in cui ce ne erano due, con tutte le casse del pesce a terra, e quindi i camperisti neanche non venivano più. In effetti sono settimane che il campeggio è praticamente vuoto. Sia come sia, ancora qualche giorno, poi il cassonnetto verrà trasferito in via Rio Primario, in una zona lontana dalle case.